Ciao ragazzi! Oggi apriamo un nuovo gioco! L'ape! Ho visto l'ape! Ecco qui! Ho giàuto aprirlo! Allora! L'apevo! L'apevo! Ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto, ho vinto. Aspetta, lascia, mi metti come? Si, si, devi prenderlo una volta. Ho capito, mamma? Onde vi metta? Un scooter che è te. Ho preso tutte, quasi tutte. Fatto, ho vinto. Ciao ragazzi, ci vediamo domani. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale.